Ora seduti, le menti accese, voglio vedere cosa siete capaci di fare col vostro strumento con noi. Restate attenti, il tempo è poco per imparare questo pezzo, se lo volete dovrete fare del vostro meglio. Ora prontissima in scena, scopriremo chi lo merita, ce l'essere qua è quello che mi fa vibrare. Ce l'essere qua dipende se ci saprai fare, ce l'essere qua dipende dall'impasto della voce se mi prenderà. Che fine hai fatto? Sei stata scelta per quel talento che hanno in pochi. Dovrai provare di esser capace e di vibrare. Ed ora ascolta, ce l'hai nel cuore. Dovrai tirare fuori tutto. E non avere paura sempre del riflettore. Ora prontissima in scena, scopriremo chi lo merita. Ce l'essere qua è quello che mi fa vibrare. Ce l'essere qua dipende se ci saprai fare. Ce l'essere qua dipende dall'impasto della voce se mi prenderà. Ce l'essere qua dipende dall'impasto della voce se mi prenderà. Grazie.